Nel mezzo del polveroso paesaggio del Nevada si trova un mondo nascosto, l'Area 51, un luogo di incredibili avvistamenti UFO e di massima segretezza. Chiunque si trovi qui viene presto scacciato da un'unità speciale e ostile, e chi chiede cosa stia realmente accadendo qui non ottiene risposta. L'Area 51 è misteriosa come nessun'altra al mondo, e l'Area è diventata un simbolo mondiale di tutto ciò che è inspiegabile ed extraterrestre. Facciamo insieme un viaggio emozionante nel mondo degli UFO e dei misteri dell'Area 51. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, con i primi avvistamenti di UFO nei deserti del sud degli Stati Uniti. Seguì il leggendario incidente di Roswell nel Nuovo Messico, e la storia continua fino ai giorni nostri, quando nel 2023 un ex ufficiale dell'esercito americano chiese un'udienza al congresso degli Stati Uniti. Questo coraggioso ufficiale aveva raccolto abbastanza prove dell'esistenza di veri alieni e della conoscenza della loro esistenza da parte del governo, e finalmente avrebbe fatto in modo che il suo governo dicesse la verità. Siamo quindi sul punto di svelare il mistero? Scopriremo cosa è successo davvero nel 1947, da dove provengono gli UFO, se gli alieni a bordo erano davvero ancora vivi, e se gli alieni potrebbero essere andati e venuti dall'Area 51 come in un quasi normale aeroporto. Cosa è successo davvero a Roswell? Nella sonolenta cittadina di Roswell nel Nuovo Messico, nell'estate del 1947, accadde qualcosa che sarebbe passato alla storia per sempre. Questa è la bizzarra storia dell'incidente di Roswell, un mistero che ancora oggi suscita controversie tra gli esperti e i cacciatori di UFO. Cosa accadde dopo che un contadino segnalò l'avvistamento di strani detriti? Per quasi un secolo, le risposte a questa domanda hanno ispirato le persone e offuscato i confini tra verità e finzione. In un giorno apparentemente ordinario, l'allevatore Mac Brazel si imbatte in qualcosa di inspiegabile nella sua proprietà. I detriti erano sparsi ovunque e sembravano diversi da qualsiasi cosa avesse mai visto. Si trattava di un aereo precipitato, un progetto militare segreto o qualcosa di molto più incredibile. La curiosità si accese e presto si diffuse in tutta la nazione. Le autorità militari del Roswell Army Airfield reagirono rapidamente per prendere il controllo della situazione. La loro spiegazione iniziale provoca ancora oggi speculazioni selvagge. Il rapporto descriveva il ritrovamento come un disco volante recuperato, ma non appena queste parole raggiunsero il pubblico, vennero ritrattate. Solo pochi giorni dopo l'incidente si parlava di un pallone meteorologico precipitato. Le speculazioni e le teorie che circondano questo incidente spaziano da progetti militari segreti a visitatori di un altro mondo. Roswell era forse la scena di un vero incidente alieno, seppellito dal governo, sotto uno spesso strato di segretezza e bugie? Poco tempo dopo sono trapelate ulteriori informazioni sul fatto che le autorità avevano accertato la presenza di vita extraterrestre. I detriti e gli alieni sarebbero stati portati in una piccola e insignificante base aerea militare nel vicino Nevada. Quest'area, con il modesto numero 51, si trasformò in un'ala di massima sicurezza nei mesi successivi. I militari si sono trasferiti, i residenti sono stati respinti, le domande non hanno avuto risposta e a nessuno è stato permesso di avvicinarsi all'area. Una situazione che continua ancora oggi. Si presume che l'esercito americano abbia trasformato l'area in un esteso sito di test per velivoli altamente segreti, in quei giorni e nei primi anni 50, ma le voci e i numerosi avvistamenti di astronavi nel sud degli Stati Uniti raccontano una storia diversa. Perché l'esercito è stato così rapido nell'intervenire sull'UFO di Kecksburg? Nel crepuscolo nevoso del 9 dicembre 1965, il piccolo villaggio di Kecksburg, in Pennsylvania, fu teatro di uno degli eventi più sconcertanti nella storia degli avvistamenti UFO. In quella fredda serata invernale, gli abitanti del villaggio videro un oggetto infuocato cadere dal cielo, sfrecciando nell'atmosfera a una velocità mozzafiato. I testimoni oculari hanno descritto l'oggetto come incandescente e parzialmente avvolto dalle fiamme, con una scia di fumo alle spalle. Quando l'oggetto ha colpito i fitti boschi intorno al villaggio, si è sentito un botto attutito. Incuriositi e anche un po' spaventati, alcuni coraggiosi residenti si sono messi a vedere cosa fosse caduto dal cielo. Quello che trovarono fu strano, un oggetto a forma di campana parzialmente sepolto nel terreno, con misteriosi segni simili a geroglifici sulla sua superficie. Tuttavia, prima che gli abitanti del villaggio potessero condurre un'indagine più approfondita, arrivarono le forze armate, che rapidamente isolarono l'area dell'incidente. L'esercito iniziò immediatamente a recuperare l'oggetto. I funzionari hanno rivelato poche informazioni e in seguito hanno spiegato che l'oggetto era semplicemente un meteorite. Nel corso degli anni, l'incidente di Kecksburg divenne oggetto di numerose teorie e speculazioni. Alcuni ritenevano che l'oggetto fosse un dispositivo segreto di spionaggio sovietico o un esperimento della NASA andato perduto. Altri erano convinti che si trattasse di un'astronave extraterrestre. Oggi esiste una replica a Kecksburg, realizzata grazie alle testimonianze di alcuni residenti. 1980. Base aerea britannica, testimone di un UFO nella foresta. Non meno emozionante è l'incidente UFO avvenuto alla fine del dicembre 1980 nei pressi delle basi della Royal Air Force di Bentwaters e Woodbridge nel Southwark, in Inghilterra. L'aspetto particolarmente interessante è che questa volta è stato il personale militare ad assistere all'attività extraterrestre. Nelle prime ore del 26 dicembre, subito dopo le festività natalizie, il personale di sicurezza della base aerea notò delle strani luci cadere nella vicina foresta di Rendlesham. Data la vicinanza a delicate installazioni militari, le preoccupazioni erano alte e un piccolo gruppo di soldati fu immediatamente inviato a indagare sul fenomeno, ipotizzando che potesse trattarsi di un aereo precipitato. Quello che i soldati trovarono nella foresta, però, era tutt'altro che il classico relitto di un aereo. Hanno riferito di un oggetto triangolare e luminoso che fluttuava nella foresta e lasciando luci brillanti e strani segni sul terreno. Alcuni testimoni hanno persino affermato di aver visto una sorta di carrello di atterraggio sull'oggetto. Nelle notti successive ci furono altri avvistamenti e strani avvenimenti. Furono osservate luci nel cielo, furono misurate radiazioni inspiegabili e furono ricevuti messaggi misteriosi. Uno degli aspetti più notevoli di questo incidente fu il coinvolgimento di alti ufficiali militari, tra cui il vicecomandante della base, il tenente colonnello Charles Halt. Halt guidò personalmente una squadra di investigatori nella foresta e registrò le sue osservazioni su un registratore, che in seguito divenne noto come il nastro di Halt. Dopo l'incidente furono condotte numerose indagini, ma nessuna riuscì a fornire una spiegazione convincente degli eventi. Il governo britannico e i vertici militari hanno minimizzato l'importanza dell'incidente, affermando che non c'erano prove di una minaccia alla sicurezza nazionale o di una visita extraterrestre. 11 UFO filmati sopra il Messico Questo incidente sembra ancora più incredibile e allo stesso tempo più reale. È avvenuto nel 2004 nella vastità del Golfo del Messico. In un giorno apparentemente normale di marzo, un aereo di sorveglianza dell'aeronautica messicana stava pattugliando il Golfo del Messico. La missione era di routine ed era fondamentalmente una missione di sorveglianza per combattere il contrabbando di droga. Ma quella che era iniziata come un'operazione standard si è presto trasformata in un incontro che ha sconcertato sia l'equipaggio a bordo che gli esperti mondiali. Durante il volo, la sofisticata telecamera infrarossi dell'aereo ha catturato qualcosa di straordinario. 11 oggetti volanti non identificati che sembravano apparire dal nulla. Questi oggetti si muovevano con una velocità e una manovrabilità che sfidavano le leggi della fisica. Inizialmente gli UFO sembravano liberarsi a un'altitudine di circa 3500 metri e ciò che ha reso questo incontro ancora più sconcertante è stato il fatto che gli oggetti erano chiaramente visibili sulle telecamere a infrarossi, ma sono passati completamente inosservati dal radar dell'aereo. Questo fenomeno ha portato a ipotizzare che questi oggetti avessero una tecnologia che permetteva loro di eludere il normale rilevamento radar. L'equipaggio ha seguito gli oggetti che si muovevano con una coordinazione e una velocità inquietanti. Sembravano formare una sorta di formazione, come se stessero navigando secondo un piano sconosciuto e preciso. Il filmato di questo incontro è stato successivamente diffuso dal governo messicano. A differenza del governo statunitense o di quello britannico, il governo messicano si è impegnato a fondo per chiarire e analizzare i dati registrati, ma non è stato possibile trovare spiegazioni definitive per il fenomeno. Un UFO si divide in due e continua a volare I fantastici avvistamenti di UFO sono diventati sempre più frequenti. Nell'aprile del 2013 si è verificato un evento insolito ed emozionante sulle acque limpide di Aguadilla, a Porto Rico. L'incidente è stato ripreso dalla termocamera di un aereo di sorveglianza ed è subito diventato l'avvistamento UFO più notevole e misterioso della storia recente. In questa notte tranquilla, un normale aereo della US Customs and Borders Protection era impegnato in una missione di pattugliamento di routine. Quello che era iniziato come un normale volo di sorveglianza si è rapidamente trasformato in un incontro del terzo tipo. Il pilota e l'equipaggio hanno notato una luce insolita e, in attesa di una spiegazione razionale, hanno acceso la termocamera dell'aereo. Questa decisione ci fornirà una delle immagini più chiare e impressionanti di un UFO. Le immagini mostravano un oggetto sferico, dall'aspetto metallico, che si muoveva nell'aria con incredibile velocità e precisione. Questo oggetto sembrava anche sfidare le leggi della fisica, così come le conosciamo. Non mostrava alcun segno visibile di propulsione o controllo. Dopo una breve, mozzafiato dimostrazione di volo, l'oggetto si avvicinò al mare. In un momento incredibile, si è immerso nell'acqua, senza rallentare, e in un altro atto incomprensibile, l'oggetto si è apparentemente diviso in due parti separate, mentre continuava a volare appena sotto la superficie dell'acqua. Il filmato è stato analizzato in seguito e gli esperti non sono riusciti a trovare una spiegazione convenzionale per quanto visto nel filmato. Non esiste alcuna tecnologia conosciuta sulla Terra che possa aver fatto questo. La Marina degli Stati Uniti avvista un secondo UFO in acqua Nel 2019 sono stati ancora una volta i militari a essere testimoni di un incidente straordinario. Durante le esercitazioni militari di routine in mare, l'equipaggio di diverse navi della marina statunitense ha notato un oggetto sferico che a prima vista sembrava essere un velivolo convenzionale. Tuttavia questo oggetto si comportava in modo contrario alle leggi terrestri dell'aerodinamica e sembrava anche non avere sistemi di propulsione o di controllo visibili. L'UFO sferico è stato ripreso dai sistemi di sorveglianza all'avanguardia delle navi e anche in questo caso l'equipaggio ha riferito che l'oggetto si muoveva senza soluzione di continuità tra aria e acqua. Dopo aver trascorso un po' di tempo in aria, l'oggetto si è tuffato in acqua senza perdere velocità o lasciare tracce di impatto o di immersione. L'oggetto è scomparso completamente nell'acqua e non è stato possibile trovarlo nonostante le intense ricerche dei sommozzatori militari e dei veicoli subacquei. David Grush, i militari e il governo mentono. Avvistamenti come questi sono comuni in tutto il mondo. A causa delle numerose testimonianze, l'esercito americano è stato costretto a inviare degli investigatori per indagare meglio sulle centinaia di avvistamenti UFO e rassicurare le persone. David Grush era uno di questi investigatori. Per anni il veterano di guerra ha indagato sulle segnalazioni di decine di cittadini. Più volte si è imbattuto in incongruenze e nel fatto che i colleghi erano stati apparentemente presenti prima di lui e avevano fatto sparire le prove. A un certo punto Grush è stato informato in modo non ufficiale dai colleghi. Un informatore ha detto a Grush che un'unità speciale dell'esercito fa sempre sparire tutte le prove. L'esercito americano avrebbe una vasta collezione di UFO precipitati e di alieni vivi e morti. Queste parti vengono conservate in basi come l'Area 51 per spiare e ricreare le tecnologie. Grush è andato in tribunale e ha imposto un'udienza al congresso degli Stati Uniti. Molti colleghi, piloti e testimoni oculari testimoniarono ciò che avevano visto, ma i responsabili continuarono a negare l'esistenza degli UFO e a cercare di etichettare David Grush come un fanatico traumatizzato dalla guerra e un alcolizzato depresso. Iscriviti ora e partecipa a ogni nuovo emozionante video.